Oggi è finalmente arrivato il grande giorno in cui conoscerò mio padre. Non vedo l'ora di abbracciarlo, non voglio che vada mai più in guerra. Vedo due persone arrivare dalla collina. C'è un uomo, ma non mi sembra di conoscerlo. C'è anche una donna. Mamma! Allora quell'uomo è mio padre. Non mi sono mai sentita così felice.